Sindaco, oggi qui a Rivoli abbiamo visto quattro progetti finanziati col progetto Top Metro, qui siamo davanti a una bellissima scuola dell'infanzia. Sì, certamente. Allora, intanto oggi è una giornata veramente importante per la città perché andiamo a scoperchiare quattro targhi, di quattro interventi, di quattro cantieri che hanno visto l'importanza di lavori fatti grazie alla collaborazione della città metropolitana ovviamente il comune di Rivoli che sono stati gli artefici di questa lodevole iniziativa. La maggior parte degli interventi vengono fatti sul tema scolastico quindi abbiamo voluto dare precedenza a quello che è la sicurezza anche nelle scuole. Ad esempio in questo edificio avevamo dell'infiltrazione nel soffitto e quindi siamo intervenuti in questa direzione qua. Io ringrazio la città metropolitana perché con questo progetto Top Metro ci ha dato anche la possibilità di sistemare alcune anomalie del passato che oggi diventano realtà fruibili e funzionali. Quindi grazie veramente di cuore a nome di tutta la mia amministrazione comunale alla città metropolitana.